Scarabocchi, quando la fotografia non basta più. Un manuale per migliorare le fotografie e uscire dagli schemi. Sono Roberto Carlone e mi piace raccontare storie utilizzando musica, parole, immagini e cinema d'animazione. Oggi vi parlerò di gente che pasticcia le foto, lascia dei segni, le altera, insomma persone che le foto da sole non gli bastano più e vuole dare più potere ai suoi scatti. Chi ci scrive sopra, chi le commenta, chi le deforma. Vi dico una cosa, agli inizi degli anni Ottanta condividevamo una villa ai margini della città. La villa era grande quindi nessuno disturbava gli altri e l'affitto era accessibile per dei ragazzi che iniziavano a costruirsi la loro vita. Eravamo in quattro, uno di noi era un fotografo che già era lanciato e riconosciuto nel mondo fotografico vercellese. A volte faceva foto simboliche o sperimentali e mi chiese di fare il modello. Lo scatto doveva essere un piano americano. Io con espressione esageratamente stupita, ma al contempo anche un poco ferita, con il braccio alzato verso l'alto e con la mano che teneva qualcosa di immaginario e molto sottile tra indice e pollice. Sarebbe stato un ago reale a cui era attaccato un filo rosso reale di lana. La foto stampata sarebbe stata stracciata a metà e il filo rosso realmente la ricuciva. Risultato io che mi ricucivo nella foto strappata da qualcuno. Fighissima. La pura luce o l'ombra non bastano più. La chiarezza di una foto come del contenuto non sono più sufficienti. Ho bisogno di un nulla che ne neghi. Ho bisogno di qualcosa di più. Non è più solo luce né solo ombra, ma è un oggetto altro. C'è una contaminazione manuale. La domanda è la seguente. È un bene la contaminazione? Aiuta? Aumenta il significato? Ha mostrato cose che non esistono più, catturato anche istanti fuori dal tempo. La fotografia è considerata un documento attendibile. Poi è entrata è anche uscita nel campo d'azione di altri media. Ha avuto il compito di confondere o diffondere tutte le arti, così come le cose si fondono nella realtà. È servita alle avanguardie, ha veicolato segreti della luce e dell'ombra. La memoria, a ben pensarci, è qualcosa di più complesso di una sola immagine, ma è anche un gioco. È un gioco quello che si può fare. Contaminare, spiazzare, completare, nel senso di arricchire però. Scarabocchio numero uno, François-Marie Bagné. Io non fotografo, io prendo. Prendo tutto ciò che c'è da prendere. L'omino, la signora, il cane, il bambino, anche le betoniere. Mi attira il racconto che indovino dietro a ogni essere, quella complessità inestricabile dalla quale debbono uscire per esistere. Come non ho potuto impedirmi di nascere, così non posso impedirmi di scrivere, di disegnare. Una fotografia è una lotta con la verità, una lotta di una frazione di secondo. Fotografare è scrivere per l'eternità un viso o un corpo. Bisogna prendere le distanze, ma a volte sono troppe. Una foto a volte manca di qualcosa. È come se si abbandonassero dei tesori, quali le sue parole, i suoi punti di vista, i suoi pensieri o i nostri dialoghi. A volte sono come delle cartoline, poiché la foto finita arriva dopo che è stata scattata e allora vedendola poi vengono in mente altre cose, pensieri, quando, dove è stata scattata. Oppure per qualcuno viene anche da riempire degli spazi, dei vuoti. La si riscrive, una foto. La si riempie. Si scoprono vuoti e pieni, spazi che sembrano fatti apposta per essere riempiti o sottolineati. Ogni linea, ogni spazio richiede un commento. È da riempire. Una sera ho scritto su una fotografia la storia del nostro incontro, della nostra amicizia, ma non ho calcolato la massa del nero della scrittura che improvvisamente hanno messo in evidenza le linee, gli spazi, i pesi. Cos'è diventato il ricordo? E la foto cosa sogna di se stessa? Le vite vissute sono vite troppo spesso dimenticate. Così quei momenti, magari venti anni dopo, si riempiono di ricordi aggiunti, di sensazioni, di nuovi significati. Un poco dei valori aggiunti. Una sorta di IVA dei sentimenti. Più 22%. Prove, commenti, sentimenti. Scarabocchi numero 2, Duhan Michels. Fa quello che facciamo tutti. Scrive commenti sulle fotografie. Appunti, appuntamenti, ricorrenze, didascalie. Questa fotografia è la mia prova. Quel pomeriggio, quando le cose andavano ancora bene tra di noi, e lei mi abbracciava, eravamo così contenti. Insomma, rende gli altri partecipi, spiegando la fotografia, quella fotografia. Se no, noi non vedremo, vedremo soltanto una foto e basta, ma non conosceremmo mai il prima e che cosa adesso questa foto, magari dopo anni, rappresenta. Madame Schrödinger e il suo gatto si stanno chiedendo in questo momento quali siano le probabilità che in questo momento tu stia leggendo proprio questo. Una domanda che si pone durante il momento dello scatto, però rimanda ad un momento futuro di fruizione della foto. Elaborazione concettuale. Precisazione. Messaggio nella bottiglia. Così come continua a fare con altre fotografie di distorsioni negli specchi. Variazioni di significato. Storture dichiarate e ricevute non dal soggetto, non viste, ma bensì dal fotografo. La diluizione del corpo. Scarabocchi numero 3. Andrei Kertes. Ce l'avete presente quello della modella scomposta, cubista, in un movimento innaturale, di un non riposo ma distesa su di un divano. Eccola. Modelle di fronte a specchi deformanti. Trasformazioni. Deformazioni dei corpi. E il bello era che la commissione della foto era per un giornale satirico. E questo mi piace ancora di più perché l'artista è il ricercatore che stravolge il compito e crea uno dei pilastri sconvolgenti della fotografia del Novecento. Destabilizzazione dell'immagine tradizionale e realistica. Non perde il contatto con la realtà perché alcuni dettagli restano riconoscibili. Sono nuove forme del reale. Mostruosità. Si liquefano. Spetrali e sensuali. Si contorce. Si diluisce. La perfezione del corpo femminile. L'ideale della modella diventa distorsione grottesca. Si frammenta. Presenta una sola porzione riconoscibile. Non è una manipolazione della fotografia ma proprio dell'immagine. Del reale. Lo spettatore è privato del punto di vista rassicurante del conosciuto. Foto sofferte. Commenti autobiografici ma del soggetto. Scarabocchi numero 4. Jim Goldberg. Generazione 1953. Il lavoro fotografico di Goldberg ha come fulcro rinstaurare un rapporto profondo e duraturo con i individui fotografati soggetti. Loro sono spesso persone ai margini della società. Goldberg fotografa soggetti in condizioni disagiate di San Francisco. A volte anche della buona borghesia. Chiede a ciascuno di loro di scrivere un commento riguardante se stessi sotto alle immagini, sotto alle fotografie. Il risultato è un potente ritratto intimo della società del tempo. Il mio sogno era di diventare un insegnante. La signora Stone è ricca. Ho talento ma non ho avuto opportunità. Sono usata per stare dietro a Mrs. Stone. Sono stata una serva per 40 anni. Vicky Figueroa. Potentissima politica coinvolgente tutta la forza eversiva di una schiavitù consapevole e di voler ancora urgentemente cambiare. Nel 2009 il fotografo documenta la condizione di persone riduci da una guerra, in situazioni economiche o sociali devastanti e nel loro tentativo di giungere in Europa per iniziare una nuova vita. Ma la foto va anche oltre allo scarabocchio, alla modifica e si estende ad un sito web che permette di visionare interviste, video ed altro materiale complementare del progetto. Oggetti personali, come se fosse una mostra quasi. Scarabocchi numero 5, Paolo Monti. Lui invece fotografa gli scarabocchi degli altri o quello che resta del consumismo. Fotografa i manifesti strappati. Cerca un senso e lo trova nei rimasugli. Sono come segni artistici, casuali e lasciati sui muri. Li scova. E poi dice delle cose bellissime. Non vediamo mai ritratti scattati da fotografi italiani fatti con quel minimo di cattiveria che spesso assicura un buon risultato. Più o meno c'è sempre uno sequio al personaggio. Il fotografo da noi non ha ancora lo status sociale che gli permetta di essere almeno moderatamente insolente. Guadagna bene ma se ne stia buono e tranquillo. Resta però il fatto che senza acido non si fanno acqueforti. Insomma, eresie, stravolgimenti. Le fotografie sono come i sentimenti quando diventano passati. Bisogna avere il coraggio di sconvolgere, deturpare, modificare, aggiungere, specificare. È anche un buon metodo per prendere le distanze, no? La fotografia ci dice che ci piace guardare dopo che si è capito e ci spiega che si vuole possedere quello che si è guardato. Ma è un'illusione questo possesso. Quando si ha il negativo di una cosa è come se si possedesse quella cosa. Molte volte, infatti, non si stampa neanche. Basta sapere di avere quell'immagine. Ecco, era quello che ho trovato sugli scarabocchi, quello che ho pensato. Scarabocchi e fotografie. Vi ringrazio tantissimo, tantissimo per essere stati tutti insieme anche quest'oggi. L'appuntamento è sempre qui sul canale bit.ly slash robertocarlone youtube perché venisse da fuori. Perché invece già su questo canale basta iscriversi. Oppure addirittura anche mettere un segno sulla campanella. Così verrete avvisati ogni volta che c'è qualcosa di nuovo. E tutto questo perché lo facciamo? Lo facciamo per credere, perché ci crediamo in un utilizzo del web bello, libero e di alto livello. Ed è per questo che stiamo cercando di costruire una comunità, una piccola comunità di persone che ama anche scambiarsi le idee. Vi ricordo anche, se volete essere addirittura e ancora più informati, di iscrivervi alla newsletter. Andate su robertocarlone.it pure cercate la pagina di contatti. Lì si apre un form, potete compilarlo, mi date il vostro nome e cognome e poi dopo io vi scrivo. Più o meno una volta alla settimana vi racconto un poco e soprattutto vi dico le novità. Quindi iscrivetevi alla newsletter, questo è quello che vi dico. Perché a volte anche organizziamo degli incontri che sono riservati soltanto a chi è iscritto alla newsletter. Oppure ci sono anche degli sconti nel momento in cui vendo libri, faccio offerte speciali o presento degli spettacoli in esclusiva. Mi raccomando, vi aspetto tanto, tanto e in tanti. Grazie ancora, ci vediamo presto. Grazie, ciao.